Torniamo oggi su cura. Io utilizzo questo cura perché è quello che è più veloce, è più semplice, lo conosco meglio. Voi potete usare qualsiasi altro slicer. C'è uno slicer in particolare, Simplify 3D, che è bello, più professionale. Io confido nel fatto che questi parametri qua ci siano poi attivabili anche in altri slicer come quello. Valutate sempre che slicer usare. Se dovete professionalizzarvi, cercate quelli professionali che magari dovete pagare, ma avete più possibilità, se dovete fare oggetti a casa, anche con cura escono molto bene. Soprattutto se fai molti file da stampa. Vediamo oggi come stampare un oggetto strano. Mi è capitato un oggetto come questo è che non ha nessun lato piatto. E allora uno prova una volta a stamparlo, dopo magari la stampa cede perché non ha una base d'approccio giusta e riprova un'altra volta e riprova un'altra volta. Allora prima vi posso dire una cosa che dovete far attenzione a due cose quando stampate un oggetto del genere. Prima di tutto a come orientate la stampa, nel senso che ho messo subito l'oggetto come non deve essere orientato. Le cose non dovrebbero partire con dei piccoli punti. Come se fosse un imbuto, vedete, mai partire con la punta verso il basso. Un po' perché ovviamente l'adesione è minore, perché c'è una piccola parte che aderisce. L'altro motivo che qua vediamo è perché c'è qua troppo supporto inutile. Tutto supporto. Questo supporto qua è materiale che viene buttato via, sarà praticamente come quasi quella stampa lì e quindi non va comunque bene. Per far sì che questo oggetto esca giusto, bisogna inclinarlo con le punte, anzitutto verso l'alto, e poi inclinarlo in modo che l'oggetto stia anche in piedi, cioè regga anche mentre sale. Quindi fare in modo che la gravità non faccia cadere l'oggetto. Più è dritto, meglio è. Qua, una volta che è posizionato dritto, c'è un problema che è come posso appoggiarlo al piano. E con la visualizzazione layer scendiamo verso il basso. Il motivo per cui vi ho detto di mettere le punte sempre verso l'alto è anche perché vedete che escono molto molto meglio, senza bisogno di supporti e l'oggetto dalla base larga va a base stretta. La parte quindi a rischio ora è questa qua perché il primo layer uscirà così. Non c'è proprio niente, cioè c'è il primo layer. Attivo una funzione che è cutoff, lo troverete anche in altri slicer e mettiamo uno 0.3. 0.3 è troppo poco, sono arrivato fino a 2 mm e cominciamo in cui lo strato è così. C'è molto più grip. Sembra poco ma per l'oggetto che è, è fondamentale. Perché poi la base ora è un pochino più larga e sostanziosa e poi subito dopo c'è il supporto. Questa parte qua sarà un po' difficile da rimuovere ma sarà quello che sosterrà tutto l'oggetto. Quindi ricordate due consigli quando stampate oggetti che non sono piatti imparate cos'è un cutoff per appiattire quella minima parte dell'oggetto che serve per far sì che stia in piedi e tenete le punte verso l'alto. Se questo video ti è stato utile metti un bel like, alla prossima!